L'arte generale nasce purtroppo con la pandemia o per fortuna con la pandemia, perché tutti questi momenti di crisi vuol dire trovare certi momenti di difficoltà, ma anche momenti di tirar fuori qualcosa di diverso. L'arte generale nasce sin da subito con un'idea di utilizzare tutte le nuove tecnologie digitali e quindi ci ha anche per certi versi forzato, aiutato a tirare fuori il meglio da queste tecnologie per essere presenti sul mercato e questo ci è stato riconosciuto sul mercato. L'originalità dei prodotti dell'arte generale è di poter fare un contrat per costruzione, con un boitaggio, gli obietti, gli obietti, il contenuto, il bambino. Quindi è qualcosa di molto innovante, associato a dei servizi molto importanti per i ricolleggiatori. Servizi è un po' di ordine abstrazione ma ciò che facciamo, ciò che facciamo con la vita. Come possiamo aiutare i nostri clienti nella vita quotidiana con le ricolleggiore, con l'arte, con le ricolleggiore, con le ricolleggiore che hanno. Come possiamo aiutare i ricolleggiare, con le ricolleggiare, mantenere i ricolleggiare, lo ricolleggiare, qualunque le ricolleggiore. Abbiamo il network, abbiamo il knowledge, abbiamo le persone che conoscevano ancora meglio, per aiutare, per aiutare, per aiutare, per aiutare i ricolleggiatori che possono arruinare qualcosa che che un ricolleggiore sulle ricolleggiare. L'altro aspecto non négligeabile e unico in questo campo è la conciergeria, che permette a tutti i momenti di avere accesso a informazioni, riguardo il transporte, riguardo l'emballaggio, l'emballaggio, il stockaggio, riguardo gli aspetti legali, cioè la possibilità di fare per trasmettere un'art, e essere in rapporto con le ricolleggiore. L'altro pilastro innovativo della nostra offerta è appoggiarci sull'innovazione digitale. Noi stiamo montando e abbiamo trovato delle soluzioni che vanno dalla nostra app, che è a disposizione per i clienti per poter gestire la collezione, a sistemi per migliorare i processi per noi e per i nostri partner, con sistemi molto più avanzati che assolutamente sono all'avanguardia in questo mondo. Noi siamo nel 21 secolo e non solo da oggi, quindi questo è qualcosa che credo sia parte di un offerto di insurazione, oggi, per vedere quali sono disponibili, quali sistemi, quali sviluppazioni che possono fare la nostra vita migliore. Il nostro destino, come Arte Generale, siamo nel corso di questa tradizione generale, mixare il passato, il presente e il futuro, mixare la tradizione e la modernità, sempre essere innovativi, sempre adattare al mondo del mondo. Penso che questo è quello che siamo noi. Per le partenze Lo che sono scoperto che sono le spessore, Quindi siamo noi.